Abbiamo nostro ospite la senatrice Elena Murelli, membro della Commissione Affari Sociali del Senato che è intervenuta all'evento di presentazione dello Logic Global Women Health Index 2023. Buongiorno senatrice, il report che è stato presentato oggi ci racconta di un'Italia in condizioni di criticità per quanto riguarda la salute della donna. Nonostante il nostro paese sia sostanzialmente allineato alla media dei G20, risulta però penultima in Europa, sempre per la salute della donna. Molte le criticità rilevate, tra cui la debolezza nelle cure preventive, che si riflettono anche nella percezione della donna rispetto al proprio stato di salute. Quindi c'è ancora molto da fare per rendere efficaci gli interventi dedicati alla salute femminile. I dati di oggi ci devono far riflettere a livello istituzionale perché rispetto ad altri paesi siamo proprio indietro. E poi da donna devo dirlo, sapere che naturalmente anche altre donne non sono informate dal punto di vista della propria salute è assolutamente preoccupante. Quindi dobbiamo investire prima di tutto sulla educazione, educazione della donna ma anche delle ragazze. Quindi attraverso un'educazione sanitaria nelle scuole per poter permettere alle donne di conoscere in tutto il periodo della loro vita, dalla pubertà alla menopausa, quello che possono essere le malattie collegate al nostro corpo e come prevenirle. Ecco, sempre parlando della salute come tema generale, ma ancora a maggior ragione quando si parla della salute femminile, significa immaginare di poter agire in sinergia tra tutti i player che entrano in gioco, quindi i clinici naturalmente ma anche la società civile e le istituzioni. Perché no, anche i partner industriali dal momento che abbiamo visto questa ricerca presentata proprio da Ologic. Quali possono essere a suo avviso le strategie più idonee a promuovere quella che potremmo definire una vera e propria cultura della salute della donna? Allora, sicuramente un network importante di tutti gli stakeholder. Quelli che lei ha enunciato sono importantissimi, le istituzioni, i pazienti, i clinici, i partner industriali, io aggiungerei anche l'associazione dei pazienti stessi, perché sono loro in primis che vivono quelle che sono le problematiche della nostra sanità. E insieme dobbiamo costruire un sistema tale per cui si va al proverbio prevenire è meglio che curare. E quindi sicuramente investire insieme sulla comunicazione e sulla prevenzione della salute della donna per poter evitare successivamente quelle che sono aggravi, patologie e anche costi economici nel nostro sistema sanitario. Ecco, i temi che riguardano la salute ma anche la sicurezza delle donne sono spesso un punto di incontro, rappresentano un punto di incontro della politica. Molte iniziative vengono promosse in modo bipartisan. Possiamo immaginare che questo approccio collaborativo delle forze politiche possa essere esteso anche a temi più ampi che riguardano la sanità. Sappiamo che oggi sta vivendo un periodo di forte stress proprio in termini di tenuta stessa del nostro SSN. È già così. Quando lavoriamo in Commissione Sanità, al Senato, alla Camera, non ci sono colori politici, perché in primis siamo tutti cittadini. Noi dobbiamo difendere la salute e il bene di tutti i cittadini e anche noi, in primis, dei nostri amici, dei nostri familiari conoscenti e i cittadini che ci hanno eletto. Quindi non esiste un colore politico, ma il bene deve essere proprio della salute del cittadino. Ecco, in chiusura, quali sono le iniziative a favore della salute della donna che sono in discussione in Parlamento, che ci può anticipare? Allora, il 90-97% delle malattie sono soprattutto femminili. Per esempio, dal canto mio, una delle malattie che parte dalla donna è sicuramente la malattia celiaca. Io ho presentato una proposta di legge al riguardo. Ci sono le proposte di legge sui disturbi alimentari, anoressia e bulimia e in questi giorni abbiamo proprio la discussione in Commissione, abbiamo già fatto audizioni. Altre diudizioni le stiamo facendo sull'altra tematica della fibromialgia. La scorsa settimana è stata approvata una mozione alla Camera e noi invece abbiamo delle proposte di legge in discussione su questo. Come vede, ci sono tante tematiche che toccano in primis la salute della donna, però sicuramente la prevenzione è quella più importante. Quindi dobbiamo agire almeno in legge di bilancio, nella prossima legge di bilancio, per aumentare quelli che sono i fondi per la prevenzione, in particolare sulla donna, i test genetici, sulla mammella, sul tumore ovarico e sul collo retto. Benissimo, grazie alla senatrice Morelli per essere stata con noi. Grazie a tutti.